Ciao ragazzi, benvenuti in un altro video del trappolone. Innanzitutto buon 2022 a tutti, spero che abbiate passato un bellissimo capodanno. Oggi parliamo di fare mix e mastering nello stesso progetto e quindi contemporaneamente, perché comunque ci sono molte opinioni al riguardo e volevo dire un po' la mia su questa pratica. Prima di entrare nel vivo della questione, se siete nuovi sul canale, vi consiglio di dare un'occhiata nei link in descrizione, dove troverete un ebook gratuito su come creare il vostro mix template e una lezione gratuita di 40 minuti in cui vi spiego quali sono i 10 errori da evitare assolutamente per ottenere un gran mix. Quindi tutto materiale gratuito per portare le vostre produzioni a un altro livello. Ora quindi, fare mix e mastering nella stessa sessione e quindi contemporaneamente. È un argomento un po' controverso e inizierei, prima di dire la mia, a spiegare un attimo per chi non ha un'idea precisa sul mastering appunto che cos'è il mastering. Il mastering è quel procedimento finale per portare il vostro brano a un altro livello, quindi limare magari tutti i difetti che ci sono nel mix, nel caso sia un mastering affidato a un professionista esterno, chiaramente diventa un procedimento in cui probabilmente delle cose che voi non avete sentito nella vostra regia, nell'altra regia in cui opera l'altro professionista verranno sentite, quindi c'è tutta una serie di correzioni. E poi chiaramente c'è la massimizzazione del volume per avere il brano, insomma, che suona più loud possibile quando si desidera un prodotto loud e chiaramente anche l'ottimizzazione della traducibilità del prodotto, quindi fare in modo che questo brano suoni in maniera più omogenea possibile a prescindere dal dispositivo su cui viene ascoltato. Quindi magari non voglio che il mio brano, sentito su vari dispositivi, su una cassa Bluetooth, su una macchina, sull'impianto di uno, sull'impianto di un altro, magari mi dia la voce che si sente a volumi diversi, magari mi dia qualche elemento che scompare e così via. Quindi diciamo che il master sono una serie di accorgimenti che poi vengono fatti o sulla traccia stereo, oppure quando si lavora i stem sul mix diviso in varie tracce per appunto migliorare quello che mancava un po' nel mix. Sicuramente quello di fare il mastering mentre si fa il mix può essere una cosa buona, secondo me, quando si lavora su un singolo e quando si decide che ci si fa tutto da soli, quindi mix e mastering lo faccio tutto io e quindi, che ne so, per esempio, io molto spesso, quasi sempre, vengo assunto dai miei clienti per fare mix e mastering sui brani e quando è un singolo mi metto la catena di mastering in catena perché almeno, insomma, ho un'idea del prodotto finito. Perché poi la chiave di questo discorso è questo, ovvero volete avere un'idea del prodotto finito già mentre state mixando? Nel mio caso avere una catena di mastering aperta già mentre mixo mi aiuta molto perché, chiaramente, per esempio, se ho un cliente che so che vuole un prodotto super loud, molto sparato, è chiaro che quello è un caso in cui il mastering gioca un ruolo fondamentale nel sonno di un brano e quindi è inutile che io mixo il brano senza poi avere la catena di mastering aperta perché magari lo faccio super dinamico, magari non limo i picchi in maniera sufficiente durante tutti gli step, quindi le tracce individuali bass e poi mi ritrovo un mix chiuso che quando gli vado a fare il mastering devo schiacciarlo troppo per avere la loudness desiderata quindi in quel caso è molto comodo perché comunque vedo appunto come il mix influenza il mastering ma vedo anche come il mastering reagisce al mix che sto facendo. Ora cambia tutto quando invece magari stiamo lavorando ad un EP quindi a un prodotto composto da più brani o a un disco quindi un prodotto composto da ancora più brani e soprattutto quando questi brani sono molto diversi tra di loro ecco in questo caso penso che sia più opportuno lasciarsi la carta finale del mastering alla fine quando abbiamo tutti i mix chiusi per quale motivo? perché comunque ad esempio immaginate un brano in cui ci può essere una ballad ci può essere un pezzo hard rock bello tirato ci può essere un pezzo che è solo chitarra acustica e voce ecco in quel caso è inutile fare mix e mastering per ogni brano a meno che non si tengono tutti gli altri brani chiusi come reference sulla sessione perché chiaramente penso che lì diciamo che è molto importante in un disco così eterogeneo avere un'idea di come questo disco scorre una volta ho chiuso tutti i mix quindi per me è molto comodo quando lavoro a un disco o un EP finire tutti i mix senza mastering poi importarmi tutti i brani in una sessione a parte appunto dove andrò a fare il mastering per ogni brano e in questo modo per me è molto facile capire come si interfacciano i brani tra di loro quanto voglio che suoni forte o comunque dinamico il brano chitarra e voce rispetto al brano dell'intro rispetto al brano più tirato del disco e quindi insomma comincio a farmi un'idea proprio non più di brano per brano ma proprio del disco che è composto dai vari brani quindi diciamo ci sono diversi casi ovviamente se ha un prodotto composto da più brani che sono tutti omogenei per esempio una roba stoner quindi un disco che è stoner bello tirato all'inizio alla fine lì può avere senso avere una catena di master per ogni brano però può avere anche senso magari fare il master solo per un brano poi copiarsi il template di quel brano senza la catena di master cercare di replicare mix simili per tutti gli altri brani e poi aprire una sessione di mastering dove si va a masterizzare tutti quanti i brani perché comunque alla fine sicuramente almeno il controllo del volume finale quando abbiamo più brani va fatto su una sessione a parte secondo me a meno che non ci vogliamo mettere a riaprire ogni pezzo fino a quando combacia tutto quindi ripeto ci può essere la via di mezzo ovvero lavorare su mix e mastering su ogni brano a seconda di quanto sono omogenei i brani tra di loro quindi diciamo le strade sono tre se si lavora su un singolo e si decide che si vuole fare mix e master da soli penso che sia molto giusto andare a fare mix e mastering contemporaneamente soprattutto se il mastering gioca un ruolo fondamentale per la loudness o per altri interventi che vi piace fare i vostri brani chiaramente man mano che aumenta il numero dei brani che compongono il prodotto e man mano che aumenta l'eterogeneità del prodotto su cui state lavorando è molto più corretto secondo me appunto fare un master alla fine quando abbiamo chiuso tutti i mix ovviamente io vi dico nel mio caso quando voglio fare una via di mezzo e forse questa è la cosa più interessante di questo discorso magari devo mixare un disco che so che è anche parecchio diverso prendo subito i brani più diversi e li inizio a mixare e poi già a mix in corso me li porto una sessione di mastering in modo che posso prevedere quello che succederà perché comunque penso sia molto importante prevedere poi come uscirà il prodotto finito quindi ho anche molti clienti che mi commissionano solo il mastering che proprio mentre stanno facendo il mix quando chiudono due brani appunto mi mandano i due brani mixati io gli faccio una prova di master gli dico quello che penso e loro prendono le mie note già cominciano a modificare i primi mix prima di andare avanti e qui porto alla luce anche un altro discorso importante che è una cosa che mi fa piacere come lavorano alcuni ingegneri di mastering e non mi fa piacere come lavorano altri ingegneri di mastering ovvero ricordate sempre che il mastering non è soltanto mettere il brano in mano a una persona prenderselo, farsi dire il mio mastering è questo se non ti piace affari tuoi io non sono mai stato così e sono sicuro che tra di voi ci sono un sacco di persone che hanno lavorato con me proprio per fare mastering penso che il mastering sia comunque una collaborazione perché ripeto quando si lavora con un altro essere umano non è solo per avere un lavoro fatto come viene e viene ma è anche per avere un feedback infatti io molto spesso quando ricevo il master e ripeto se tra di voi c'è qualcuno che ha lavorato con me perché so che siete tantissimi commentate e dite come lavoro io molto spesso a me mi arriva un brano io faccio una prima passata di mastering però allo stesso tempo se c'è qualcosa nel mix e mi fa sorcere il naso lo mando al cliente e gli dico guarda col mio mastering possiamo raggiungere questo livello però allo stesso tempo farei queste modifiche al mix così ho più controllo su questa cosa per esempio molto spesso è magari mettere un po' più di essere alla voce magari dare un timbro generale più chiaro più scuro magari controllare meglio dei volumi a volte sono io stesso a proporre di lavorare i stem in modo che mi rendo conto che il cliente non ha le capacità per correggere quello che io vorrei correggere quindi gli dico guarda fammi degli export a tracce separate mandami batteria, basso, chitarra, voce, 4-5 tracce stereo a volte 8 tracce stereo a volte anche solo base e voce e quindi faccio in modo che mi dia più controllo anche sulle tracce separate del mix insomma queste erano un po' tutte le riflessioni che avevo da fare sul modo di masterizzare un brano se mentre mixiamo, se dopo che abbiamo mixato cosa fare in caso di singolo, cosa fare in caso di EP o disco e cosa fare quando ci si interfaccia con professionista esterno ha anche senso che vi fate il vostro mastering e poi magari ingaggiate un professionista esterno a cui manderete appunto il vostro ascolto di mastering e il pezzo senza mastering per sentire quello che fa lui ma allo stesso tempo dargli un riferimento di come avete sentito il pezzo voi quando ci lavoravate e questa è un po' la soluzione che preferisco e niente, comunque sono tutte soluzioni che possono aiutarvi a portare il vostro brano al livello successivo fatemi sapere nei commenti com'è che lavorate se siete i tipi che affidano il mastering a un professionista se siete i tipi che si fanno il mastering da solo mentre mixano o se siete i tipi che fanno il mastering alla fine quando hanno chiuso il mix in modo che, insomma, tengono i vari stage separati detto questo io rinnovo i miei auguri di buon anno a tutti voi ci saranno un sacco di novità sul canale ma anche sulla piattaforma di corsi che sta andando veramente una bomba abbiamo superato i 600 studenti siamo veramente tantissimi e vi ringrazio per tutto il supporto e sono anche contento di tutto quello che state imparando sia sul Patreon sia sullo VDSS Audio Academy insomma, su tutto quello che sto cercando di creare per farvi migliorare tutti e per alimentare la nostra passione in questo campo detto questo vi saluto veramente ci vediamo al prossimo video direi che per oggi è tutto Love Love